buongiorno siamo qui al risto aereo di fiumicino per presentare una nostra nuova ricetta al volo questa ricetta serve per sfatare radiceria insomma quando il detto che sei acido come un yogurt in realtà in questo caso lo yogurt verrà utilizzato in maniera diversa e quindi non sarà assolutamente acido ma anzi dolcissimo prepareremo un cremoso infatti allo yogurt e fragole per cinque persone prevede mezzo litro di panna fresca montata con dello zucrabbello mezzo chilo di yogurt che non deve essere come me quindi deve essere magro dopodichè abbiamo delle fragole visto che la stagione e per decorare sia delle fragole tagliuzzate che della menta qui con l'aiuto dello chef califa vediamo subito come come fare si prende lo yogurt magro e si mischia insieme alla panna già montata si fanno amalgamare ben bene la panna con la con lo yogurt magro vedete insomma neanche un minuto viene una crema molto omogenea dopodichè si infila la crema nel sac a poche ecco mettiamo subito diciamo il composto dopodichè aggiungeremo delle fragoline così nel mezzo per impreziosire il dessert diciamo e aggiungiamo della crema allo yogurt sopra concludere metteremo questa chatne di fragole che è stata da noi preparata tocco finale della menta per preparare la chatne di fragole basta avere appunto naturalmente delle fragole si tagliano a pezzettini si mettono in un pentolino a fuoco lento con dello zucchero per qualche minuto hanno poi successivamente frullate con un mini peamer molto buono da aggiungere poi come decorazione finale io sono un official tester più che chef quindi devo assaggiare leviamo la fogliolina di menta e poi proviamo questa questo cremoso allo yogurt che non è acido assolutamente ecco l'acidità non si sente io ve lo consiglio anche perché un dessert afrodisiaco venite a provare questi dessert direttamente qui a Ristoereo siamo sotto le ali ci vedremo prossimamente a Ristoereo grazie un saluto dal comandante di Ristoereo e se cliccate sul link sotto al video avrete uno sconto speciale per venirci a trovare qui a Ristoereo alla prossima